amici bentornati tutti sul canale buon ferragosto fatto a tutti quanti voi scusate se non ho postato video in questi giorni quest'ultima settimana ma mi sono goduto un po di riposo mi sono rilassato un pochino ma partiamo forte perché bisogna sempre ripartire forte siamo tornati su radio not home invasion ho finito e ho completato tutti i livelli di questo dlc e ho completato anche la più difficile ossia la villa questa è una missione rescue hvt perfetta per il reparto che simuliamo fbi e certi che svolge questo tipo di operazione devo dire che la villa è veramente difficile perché ci sono stanze spazi aperti finestre civili e comunque un gruppo di banditi veramente veramente tosto questo è il preset che ho utilizzato proprio ieri durante il ride durante la missione di rescue hvt che ho fatto insieme a due operatori della brigata corvinieri ringrazio come sempre gaetano gaz ed aspide una nuova recluta che è entrato nella brigata corvinieri da pochissimo e si è integrato benissimo ovviamente sta ascoltando tutti i nostri insegnamenti e sta iniziando a muoversi con una bella logica e soprattutto una tattica alle spalle vi faccio vedere il mio preset che sto utilizzando ragazzi mi raccomando andate a vedere il video che ho postato recentemente sulle mode da utilizzare per home invasion radio or not che sono stra fighissime e sono fatte veramente bene sto utilizzando questo tipo di asset quindi una rugby per quanto riguarda tutta la parte superiore in ranger green la parte sotto un pantalone tattico in multicam e poi abbiamo questo giubbotto mod di nexus con la scritta fbi sul petto sto utilizzando un 416 quindi non un giselle duty fbi ma voglio utilizzare quest'arma per uniformare i caricatori che ho sul petto quindi gli stanag con gli stanag ossia i caricatori che utilizza il 416 detto questo io adesso voglio lasciarvi al video della missione io vi do appuntamento sempre qui sul canale con video live tutto ciò che riesco a fare tutta la mia passione ve la porterò sempre qui vi aspetto numerosi soprattutto i reclutamenti presso brigata corvinieri sono aperti quindi non esitate fate domanda superate il periodo di prova ed entrare a giocare insieme a me un saluto ed un abbraccio caloroso dal vostro blake dite mi raccomandate che alla stanza tre porte un ore 12 un ore 9 un ore 3 nessun movimento entriamo blocchiamo porta frontale e porta a destra la porta è bloccata uso un grimaldello e avanti alla rampa di scale che sta salendo vai vai ore 12 verso quella doppia porta che contatto sopra le scale c'è blake c'è blake popi saliamo aspide e aspide quello è un balcone blake controlla il balcone contatto ok a terra stanza che si propaga a sinistra rimani qui blake prendi questo qua e manettalo questa ok preso ci penso io blake dove avanti scambio civile probabili sospettati dentro la stanza davanti a me voi che avete io sono civile a terra si è reso io ho la porta chiusa davanti a me dietro blake ok coprimi aspide che lo metto in sicurezza da me porta ok contatto armato da me ingaggio a terra ce ne sta un altro ce ne sta un altro ricevuto aspide usa flashbang con blake ho bisogno di supporto è dietro il bancone ok abbiamo tre civili ottimo pensavo la raffica avesse colpito il civile no 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 infatti ho detto minchia la sta vedendo che il marrone era civile clear occhio alla porta che sento qualcuno dentro è la stanza di prima ottimo tutto pulito torniamo a sinistra rispetto a queste scale ragazzi porta aperta a destra cazzo vado vai civile da me si arrende questa e io spirito aiutiamo abbiamo bisogno di raddoppio da mia ok porta a sinistra scopi vai giro bagno clear sì quella lì quella lì come la conazzo vai 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 a sfide che controllo balcone balconata clear vai aspide ci sono ti apri quando vuoi ti apri quando mi fa il gesto ti apri vai porta a sinistra aperta recupera con black recupera recupera si lancio una flashback black flash pronta vai flash out civile ottimo bel metto in sicurezza si copriamo le uscite posso coprire dietro si si balcone occhio ci ingaggiano da fuori se vuoi rientra aspide entrate che ti copro continuiamo a destra è nell'altra stanza è un 3 20 io cazzo red yellow green vai usciamolo usciamolo vai prendilo e mettigli la fiacetta voglio una porta ragazzi vuoi fare un'altra stanza vai vai quando vuoi clear ok entro vai aspide push ok fechato mi saco l'oprezzo nell'oprezzo l'oprezzo però овalyst in ma in as Grazie per la visione!